omicidio fano lucaricini tribunale fra vuoti di memoria e crisi di pianto primo consiglio comunale dell'era biancani belloni nominato presidente centrodestra pesarese presenta mozione per ridurre gli stipendi della giunta matrimonio fra musica e tecnologia nasce il roff digitale baia flaminia canta e balla con il concerto all'alba alle cater raduno una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 28 giugno che apriamo occupandoci delle duplice omicidio avvenuto a fano nella notte fra domenica e lunedì scorso oggi nel tribunale c'è stata l'udienza di convalida delle fermo di lucarici reo confesso dell'uccisione dei genitori giuseppe e luisa vediamo quanto accaduto non ha spiegato perché ha ucciso i genitori e si è avvalso della facoltà di non rispondere dopo che ogni tentativo di narrazione degli eventi è stato interrotto da crisi di pianto a pochi giorni dalla confessione dell'omicidio dei genitori giuseppe ricci e luisa marconi avvenuto la notte fra domenica e lunedì scorso il 49enne lucarici è stato trasferito questa mattina dal carcere di villa fastici al tribunale di pesero per l'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip giacomo gasparini dietro le indicazioni del dottor gasparini ha iniziato a raccontare un pochino quello che è successo quella sera ma si è praticamente immediatamente interrotto perché aveva ripetute crisi di pianto e disperazione per cui il giudice ha ritenuto opportuno sospendere l'udienza e a quel punto il signor Ricci non se l'è più sentita di riprendere l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere ha semplicemente ricostruito quello che aveva già sostenuto agli atti su quello che era successo quella sera in maniera abbastanza chiara per quanto sempre interrotto da quella difficoltà legata alle crisi di pianto però non è andata la descrizione poi degli eventi proprio nel momento in cui si sarebbe dovuto addentrare nel ricordo della visione dei genitori la mattina quando è entrato nella casa è scoppiato in un pianto di rotto a singhiozzi per cui non riusciva proprio più a parlare e il giudice ha avuto la delicatezza di interrompere l'interrogatorio. Ora parte una complessa strategia difensiva al cospetto dell'evidenza dell'esame autoptico che ha detto di un padre di 75 anni ucciso con 11 martellate e di una madre di 70 anni morta per asfissia dopo strangolamento con un filo elettrico. Ci teneva che la mamma non avesse sofferto ecco l'unico elemento che ha riferito era questo la sua speranza che la mamma non avesse sofferto. Lui riferisce continuamente ed insistentemente che ha proprio dei buchi neri dei vuoti completi di quei momenti se non dei flash estremamente brevi ma oltre i quali non riesce ad andare. Adesso veramente anche da un punto di vista difensivo bisognerà valutare perché a me sembrano evidenti delle grosse lacune da un punto di vista proprio psicologico di questa persona se non ovviamente psichiatrico perché ci sono troppi vuoti troppi buchi di memoria troppi punti neri rispetto alla chiarezza di tutto quello che è al di là dell'episodio centrale di questa vicenda. Elementi che non escludono una prossima richiesta di perizia psichiatrica. Non lo escludiamo credo che non sia possibile escluderla proprio in considerazione di quelle che sono le cose che sono emerse fino ad oggi. Domani sabato 29 giugno alle ore 10 si terrà il funerale dei due coniugi Giuseppe Ricci e Luisa Marconi alla chiesa Santa Famiglia di Fano II. E dalla cronaca cambiamo argomento e passiamo alla politica perché è partita l'avventura amministrativa del nuovo consiglio comunale di Pesaro. Ieri pomeriggio infatti c'è stata la prima convocazione della Sisa con 32 consiglieri fra conferme e novità. Si è tenuto il primo consiglio comunale del nuovo governo di Pesaro a guida Biancani. Vari i punti affrontati e votati durante questa occasione tra i quali su tutti spicca ovviamente quello della nomina del presidente del consiglio comunale che sarà ricoperto da Enzo Belloni e del ruolo da vicepresidente che invece sarà ricoperto da Serena Boresta. Dopo 15 anni di assessore questa nuova esperienza chiaramente mi stimola. Sarà meno operativa dal punto di vista del confronto con la comunità ma sarà decisamente più operativa dal punto di vista politico. Dovremo in qualche modo gestire i consiglieri, ci sarà grande ridossare la garanzia per tutti sia per la maggioranza che per l'opposizione e l'affrontiamo per i prossimi cinque anni con entusiasmo, energia e dinamismo e soprattutto rigore perché il consiglio comunale non è un bar quindi bisognerà in qualche modo rispettare quelle che sono le regole, i regolamenti e sono sicuro che tutti i consiglieri sapranno comportarsi al modo giusto io per primo. Un nuovo governo, un nuovo consiglio comunale ma alcuni volti sono già noti, riconfermati infatti dai risultati elettorali che hanno dato loro la possibilità di tornare a rivestire la carica di consigliere comunale un'altra volta. Questo è il terzo mandato che faccio, sono stato eletto con la lista del candidato sindaco Marco Lanzi, ho avuto la fortuna di essere scattato anche in regione. Gli obiettivi sono sempre di dare un servizio ai cittadini, alla città, cercando di dare sempre maggiori risposte a tante esigenze che i cittadini ci chiedono. Questi cinque anni è aumentata la consapevolezza di questo ruolo, purtroppo non siamo al governo della città ma faremo e farò personalmente la più grande opposizione che va fatta in questi casi, cercando di contrastare le scelte scellerate che l'amministrazione comunale farà ma allo stesso tempo facendo proposte per cercare di portare dei correttivi laddove sarà possibile. Noi siamo chiamati a fare l'opposizione, la faremo in modo serio, in modo attento, in modo che ci sia un controllo, un controllo serio e puntuale nel merito delle varie iniziative che porterà avanti questa amministrazione e lo faremo anche con la consapevolezza di essere in grado di portare proposte a questa città. Questa città ha bisogno di fare tanti passi avanti dal nostro punto di vista e noi saremo anche in grado di portare proposte. Condivideremo tutte le scelte che saranno dell'interesse della città ma saremo fermi oppositori di una giunta che già nei primi passi ha iniziato molto male la sua storia come hanno dimostrato le prime dichiarazioni che ha fatto il sindaco Andrea Biancani sulle vicende del parco e sullo spaccio di droga. Ci confronteremo in aula e ci confronteremo nell'interesse di Pesaro. Per alcuni il primo consiglio comunale del governo Biancani è anche il primo consiglio in assoluto. Sono vari i volti nuovi presenti in sala sia della maggioranza che dell'opposizione. Per me oggi è un po' come il primo giorno di scuola quando si inizia un nuovo ciclo però mi sento pronto e sono carico per lavorare insieme a tutto il consiglio per rappresentare ragazzi e ragazze e tutti i cittadini della nostra città. Porterò avanti sicuramente la voce dei giovani come abbiamo fatto in questa campagna elettorale. Il risultato di lista c'è stato purtroppo ci è andata male come coalizione però ce la metteremo tutta. Io metterò tutto me stesso al 100% sarò disponibile per qualsiasi cittadino che avrà bisogno. Ringrazio la lista Forza Pesaro e l'assessore Mila della Dora di aver creduto in me e ho tanta voglia di iniziare a imparare soprattutto e rendermi sempre diciamo essere sempre più presente sia all'interno di quelle che saranno le mie responsabilità sia a disposizione della nostra comunità. Spero insieme agli altri due colleghi delle Colline Castelli Quartiere 3 Lorenzo Montese e Sabina Alessandroni di continuare a portare avanti un lavoro importante che è il lavoro di riportare direttamente in Consiglio Comunale le problematiche dei quartieri che sono poi tutte comuni, più o meno sono gli stessi argomenti e quindi siamo in tre, speriamo in tre di poter dare il nostro contributo. Porterò avanti ancora gli aspetti sociali, gli aspetti dell'inclusione mi aspetto o verso la società che mi attende, verso la città che mi attende mi aspetto che diventi realmente inclusiva, realmente accessibile, realmente accogliente. È partito il Consiglio Comunale ed è partita la strategia di opposizione dei consiglieri di centro-destra che questa mattina in una conferenza stampa hanno apertamente attaccato il modus operandi di composizione della Giunta e di incarichi nelle partecipate. Vediamo. Nemmeno il tempo di terminare il primo Consiglio Comunale del nuovo governo cittadino di Pesaro che il centro-destra si riunisce subito per esprimere la propria parere sulla Giunta Biancani che secondo loro non è frutto di merito e competenze, bensì di accordi elettorali e correnti politiche. Sono sempre le stesse persone, non da 5 anni ma mai da 10 anni addirittura per alcuni assessori è il terzo mandato. Quindi quello che noi contestiamo su questa scelta che manca veramente, mancano energie nuove, manca innovazione, sono sempre le stesse persone. Questo perché abbiamo visto che anche durante la campagna elettorale e addirittura prima della campagna elettorale, quando ancora non era stato scelto se candidare Biancani, Vimini o chiunque altro, chiaro che queste scelte sono state fatte non tanto su dei contenuti, su un programma, su una visione della città ma proprio su una spartizione di poltrone a livello di correnti interne del Partito Democratico e inoltre anche per dare visibilità, per premiare certi personalismi, certe persone e questo lo dimostrano i fatti sotto gli occhi di tutti. Questo è ancora più inaccettabile perché comunque sembra veramente che quasi noi l'abbiamo definito un poltronificio, come un lavoro a tempo indeterminato. Il centrodestra avanza poi una proposta, visto l'aumento delle indenità dei sindaci voluto da Roma qualche anno fa, che arriva quest'anno al suo apice. Da qui dunque la richiesta di donare il 30% di quest'ultimo alla città e ai cittadini. Le recenti modifiche legislative, addirittura un sindaco prende 9.666 euro l'orde e un assessore più di 5.796 euro l'orde. Faremo una mozione proprio precisa su questo per richiedere una riduzione del 30% di questi stipendi. A fronte che anche un'altra cosa vorrei chiarire, noi veramente siamo fieri, siamo orgogliosi di far parte di questa, di essere qui in Consiglio Comunale. Faremo chiaramente una opposizione molto concreta, molto incisiva, corretta. Però quello che anche qui vorrei far capire un attimino ai cittadini per proprio togliere qualsiasi equivoco, guardate che un consigliere comunale che partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Comunale, partecipa a tutte le commissioni di quali fa parte, partecipare tante volte al Consiglio Comunale dura anche 7-8 ore. Quindi se partecipa a tutte queste riunioni un consigliere comunale massimo riuscirà a percepire nell'anno 2.000 euro l'orde. Questo non è che vale solo per i consiglieri dell'amminoranza, ma per tutti i consiglieri. Una parentesi viene poi aperta anche sul tema delle società partecipate, dove il centrodestra critica la scelta di Biancani di non aver dato nessun posto all'opposizione e che definisce come un parcheggio degli assessori mancati. Gli organi direttivi di queste partecipate spesso vengono, tra virgolette, parcheggiate dalle persone che hanno chiesto di diventare assessori, non sono stati accontentati, quindi in qualche modo viene data loro un altro ruolo all'interno di queste partecipate. Sembrano quasi dei parcheggi, parcheggi comunque pagati in maniera, pagati autamente. E come annunciato da Andrea Biancani pochi giorni fa ai nostri microfoni, il sindaco si è incontrato con il prefetto Emanuela Savera Greco e il comitato di ordine e sicurezza pubblica. Da quanto è emerso area della stazione, monumento della resistenza, parco Miralfiore, restano i sorvegliati speciali. Biancani si è detto pronto ad aumentare impianti di video e sorveglianza, verificare le restinzioni di velte e rendere sempre più viva l'area delle parco Miralfiore. In programma anche una campagna di sensibilizzazione per il contrasto dell'uso delle droghe con il coinvolgimento delle forze dell'ordine, azienda sanitaria e scuole. E nella giunta di Andrea Biancani è ufficialmente partito il lavoro del nuovo assessorato alle manutenzioni affidato a Mila della Dora. Sono infatti iniziati oggi 100.000 euro di lavori di pulizia e sistemazione dei fossi di competenza comunale, interventi necessari per fronteggiare alle meglio gli eventi climatici sempre più estremi. Sette i cantieri previsti, Fosso della Badia in località Vismara, due aree delle Fosso Falcinetti in località di Villa Fastigi, Torrente Genica in località Montegranare e Muraglia, Fosso dei Cannetti in località Cattabrighe e diversi fossi in località Colombarone. E dall'azione amministrativa di Pesaro passiamo ora a quella di Fano, perché abbiamo avuto ospite nei nostri studi il nuovo sindaco Luca Serfilippi. Per il primo cittadino i cantieri delle opere pubbliche sono al centro della scritta di priorità in questo inizio mandato. Le prime urgenze sono quelle dei cantieri, cantieri che abbiamo ereditato, molto problematici, penso ad esempio all'Anfiteatro Rastata in Sassonia, oppure quella di Torrette, dove abbiamo dovuto inserire degli interventi urgenti per riaprire il prima possibile ai turisti e a chi passeggia il percorso in sicurezza. Un altro cantiere molto problematico per il quale abbiamo deciso di convocare tutte le associazioni di categoria e gli operatori commerciali, gli esercenti e gli operatori del mercato del pesce è quello di Piazza Andrea Costa. Abbiamo stabilito insieme il modus operandi per andare avanti con il cantiere, quindi non verrà fatto più il nuovo pavimento che avrebbe comportato la chiusura di tutto il mercato del pesce per circa due mesi, ma verrà fatto un lavaggio approfondito del suolo e rifatto l'intonico e l'illuminazione e installati i cancelli che non erano previsti per il mercato del pesce. Quindi gli operatori potranno continuare a lavorare. La parte scavata che è stata ricoperta dalla prossima settimana potranno reinstallare i tavolini per gli operatori che hanno, diciamo, la pizzeria piuttosto che il Bello e la Bestia, il ristorante e inizieremo a scavare invece, quindi proseguiremo con l'opera di scavo di tutto il resto dell'area, non completamente, ma quella lato via Montevecchio, per permettere, diciamo, a tutti gli ambulanti di continuare a lavorare in maniera tranquilla e serena, magari restringendo il campo d'azione, ma permettendo anche, ad esempio, il pomeriggio alle persone che vogliono parcheggiare nella piazza di poterlo continuare a fare. Un intervento importante di ascolto che avevamo promesso in campagna elettorale e che oggi, dopo dieci giorni, massimo due settimane, stiamo portando avanti. Siamo stati convocati da Enac con la Fanon Fortune e insieme al vice sindaco siamo andati dal direttore e, diciamo, ci hanno confermato la loro intenzione di lasciare le risorse a disposizione per l'analizzazione della pista in cemento. Io ho confermato l'intenzione ferma e forte dell'amministrazione comunale di addivenire il prima possibile al passaggio dei terreni che sono in capo al comune e al demanio statale per consentire ad Enac di fare la gara d'appalto, fare prima il progetto esecutivo, quindi tutte le autorizzazioni, gara d'appalto e realizzazione della pista in cemento. Questo significa un'azione vera di sviluppo della nostra città che riguarda il nostro aeroporto. E in prefettura si è tenuta la riunione di programmazione delle iniziative da adottare in occasione della campagna anti-incendio Boschivi 2024. Un tavolo di lavoro concertato con Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Capitaneria di Porto, Ente San Bartolo e i comuni provinciali interessati da parchi volto a studiare una più efficace azione di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e in zona di interfaccia urbano-rurale, nel rispetto delle indicazioni diramate dalle ministro per la protezione civile. E questa mattina presso la Camera di Commercio delle Marche nella sede di Ancona si è insediato il nuovo consiglio camerale per il quinquigno 2024-2029, nominato con decreto delle presidenti della regione Marche. Il primo atto del nuovo consiglio è stato eleggere il presidente. La scelta, presa all'unanimità dell'Assemblea, è caduta nuovamente su Gino Sabatini, già alla guida dell'ente nei primi cinque anni a profilo regionale dopo l'unificazione delle cinque preesistenti camere territoriali. E cambiamo ora argomento. L'opera e la musica classica delle Rossini Opera Festival si incontrano con l'innovazione della casa, delle tecnologie emergenti. Da questo matrimonio nasce infatti ROF Digitale. Un ROF come non si è mai visto prima e questa volta non c'entra lo spettacolo, il calendario o le opere, bensì la tecnologia che incontra il classico e la storia grazie all'utilizzo del VR, che permetterà così a chi lo indossa di vivere spettacoli e visitare il location come se fosse lì. Un ROF più accessibile, più mobile. Un ROF ancora più internazionale, moderno e di tutti. La Rossini Opera Festival è sempre stato un centro di innovazione. In questo caso incontra la casa delle tecnologie emergenti, che rappresenta non solo il meglio che l'amministrazione comunale può mettere in campo in termini di innovazione, con i propri uffici, ma anche un incontro di tanti partner, professionisti e imprese che hanno aderito a questo progetto, che tra l'altro include anche l'Università di Urbino e quella di Ancona. In questo caso con due partner, Sinergia e Rainbow, si vanno a presentare più progetti. Intanto la ripresa in visione sferica di quelle che sono dei ormai tradizionali concerti al balcone del sabato, che potranno quindi essere resi sia nel VR, nei lettori VR e anche nella sfera in Piazza del Popolo, per un doppio effetto anche di accoglienza per i visitatori del festival, ma anche per poter essere poi portato in giro per il mondo in maniera semplice per portare questa esperienza nelle ambasciate, negli istituti di cultura, negli eventi in cui il Rossino Para Festival, in nome per conto dell'amministrazione, va a promuovere anche la città e le sue eccellenze culturali. Con Rainbow, un contenuto originale creato assieme alla narrazione didattica, ma non solo, del festival, che quindi permetterà, attraverso un video di animazione, che questo è visibile con le nuove tecnologie, di percorrere, diciamo, simbolicamente un avvicinamento a quella che è un sunto delle 39 opere di Rossini. Ovviamente per noi il teatro, il teatro d'opera, è un mezzo che va vissuto dal vivo, quindi non sono mezzi sostitutivi di questa modalità di fruizione, ma sono complementari, nel senso che permettono di avvicinarsi ai nostri contenuti a persone che non possono essere fisicamente con noi, ma permettono anche poi di vedere da prospettive diverse. Ad esempio i concerti dal balcone sono ripresi anche da backstage, quindi attraverso il visore si possono vedere anche i cantanti che si preparano prima di affacciarsi al balcone di casa Rossini e quando rientrano soddisfatti per aver fatto un'ottima prova. Quindi un modo aggiuntivo per vedere dei contenuti che dal vivo non sarebbe possibile godere. E le immagini che vi mostriamo ora mostrano il concerto all'alba tenutosi nelle palco allestito a Campo di Marti in Baia Flaminia in occasione delle Cater Raduno. Come ormai da tradizione delle tre estati, migliaia di pesaresi e visitatori hanno deciso di svegliarsi bene prima dell'alba per assistere alla performance di Cosmo. Cater Raduno che continua questa sera con i live di Valerio Lundini e Vazzanicche alle 21.30 edito nella piaga alle 23.00. Un Cater Raduno che continua anche domani alle ore 11 al Teatro Sperimentale con la stand-up tragedy di Cinzia Spanò alle 16.30 in Piazza delle Popolo con l'incontro sulla cultura della legalità con Don Ciotti e a seguire il concerto dei ladri di Carrozzelle. Sempre domani in Baia Flaminia alle ore 22 il live di Lucio Corsi. E gli elementi di identità dei quartieri di Pesaro sono pronti a raccontarsi in un film dalle titolo Autobiografia di una città un lungometraggio che sarà accompagnato da una mostra. Si chiama Autobiografia di una città il progetto coordinato dall'Associazione di Cultura Fotografica Macula che porterà a raccontare 13 quartieri pesaresi in un lungometraggio e in una finestra visiva in cui verranno esplorati luoghi nascosti, rigenerati, sentimenti e prospettive identitarie che emergono dai rioni cittadini. La città ha proposto un bando come quartiere capitale della cultura per Pesaro 2024 e in questo bando praticamente dovevano partecipare solamente un quartiere avrebbe vinto solamente un quartiere ma cosa hanno deciso fortunatamente? Invece di essere in competizione i quartieri si sono messi in cooperazione e quindi hanno deciso di partecipare insieme. Dopodiché l'idea era quella appunto di che cosa raccontiamo della città e noi come Macona abbiamo proposto questa autobiografia di una città e tutti i quartieri sono stati molto piacevolmente sorpresi, coinvolti e gli è piaciuta questa idea. A realizzare il film dedicato ai 13 quartieri la regista Mauro Santini per un progetto attualmente work in progress che sarà proiettato in autunno al Cinema Astra. La autobiografia di una città significa anche coinvolgere i cittadini dei quartieri nella realizzazione stessa del film e quindi il nostro sguardo sui quartieri, sui luoghi, sui loro volti e voci deve divenire assolutamente anche il loro interno al quartiere e quindi il racconto di ciò che vedono e ascoltano dai loro balconi, dalle loro finestre e quindi i cittadini dovrebbero e spero che questo avvenga concorrere insieme a noi a raccontare ciò che ci gira intorno che è un po' il compito principale di chi si occupa di quello che chiamiamo cinema del reale e dunque credo che sarà un ritratto in grado di stupire anche molti pesaresi che pensano di conoscere a fondo la propria città e che invece troveranno dei luoghi altri rispetto a quelli del loro vivere quotidiano. A precedere il film ci sarà però un momento preliminare quello di una mostra che sarà inaugurata sabato 29 giugno allo Spazio Sora una finestra visiva realizzata dallo sguardo degli studenti dell'Istituto Isia di Urbino e dal titolo 13 quarti. Ci sarà proprio appunto questo lavoro di questi ragazzi che attingendo da questo materiale dei quartieri hanno rienterpretato attraverso questo sguardo un po' fresco, un po' nuovo perché noi dobbiamo pensare che in qualche maniera quando noi viviamo la nostra città a volte il quotidiano ci sfugge non è più sorprendente come si suol dire ormai diventa parte di noi stessi e osservare invece lo sguardo di questi ragazzi che vengono da diverse parti d'Italia con uno sguardo nuovo, con uno sguardo fresco e anche sorprendente dà anche a noi l'opportunità di rivedere, di riscoprire diciamo così questa Pesor inedita perché a fianco diciamo così di una Pesor che è già conosciuta con i propri luoghi storici, con i propri paesaggi diciamo così che però tutti noi conosciamo in maniera più approfondita c'è invece questo aspetto un pochettino più nascosto questi luoghi un po' segreti questi luoghi così che sono appunto non visibili da tutti diamo questa opportunità sia al fruttore ma anche a noi stessi pesaresi di riscoprire di scoprire e riscoprire questi luoghi e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport perché oggi pomeriggio è uscito il girone di serie C girone B che la Visse Pesor affronterà per il settimo anno consecutivo lo vediamo in grafica perché ci sono le novità Ascoli, Campobasso, Carpi, Legnago, Milan, Under 23, Pianese e Ternana confermate le avversari dello scorso anno come Arezzo, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pineto, Ponte d'Era, Rimini Sestri, Levante, Spalle, Torres ed Entella in attesa dei calendari le vie alle campionate è fissato per il 25 di agosto passando dalle calcio alle calcio 5 l'Ital Service Pesor ha ufficializzato il suo nuovo allenatore dopo che qualche settimana fa si sono separate le strade con Fausto Scarpitti il nuovo tecnico sarà una vecchia conoscenza come Davide Barniesi già vice di Colini e traghettatore della salvezza dell'Ital Service nel 2023 torna a Pesor da capo allenatore dopo un anno in cadetteria all'età beta Fano e allora in bocca al lupo a Davide Barniesi per questa nuova avventura la guida dell'Ital Service Pesor Calcio 5 era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale prima però di lasciarvi le previsione delle meteo vi ricordo la programmazione in onda questa sera su Rossini TV perché si comincia subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale con la nuatura della Cultura Magazine tutti i lunedì, mercoledì e venerdì e le orari che vedete in grafica alle 8 alle 13 e appunto questa sera alle 20 poi vi ricordo domani il riassunto della settimana domani domenica sabato alle 12 e alle 19 mentre domenica alle 15 e alle 21 e vi ricordo la nostra prima serata il nostro nuovo programma targato Rossini TV estate capitale tutti i venerdì alle ore 21 e 20 la seconda puntata dopo l'esordio venerdì scorso con Paolo Pagnini questa sera seconda puntata che parlerà del bello e del buono dell'eporto con la conduzione di Nicoletta Tagliabracci e vi ricordo il nostro consueto appuntamento con la rassina stampa dei quotidiani locali domani mattina buongiorno Rossini sempre in diretta alle ore 7 e 20 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook sito e app domani mattina ci sarà il nostro Antonio Astuti ed è davvero tutto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon fine settimana